Buongiorno, benvenuti a tutti. Cominciamo questi nostri lavori che ci impongono anzitutto un piccolo cambiamento nell'andamento del programma, nel senso che Carlo Doglioni, come forse potete immaginare, in questo momento non è qua, ma è impegnato per quella che è la sua funzione, non solo professionale ma anche culturale e quindi è a Roma. Allora il programma si riaggiusta in questo modo, daremo questi saluti cercando di essere il più rapidi possibili, poi l'intervento di Carlo Doglioni verrà attraverso collegamento Skype, lo potrete vedere sullo schermo e sarà il primo dopo i saluti ammesso e se riusciamo subito a sistemare il problema dell'audio. Questo significa che in relazione all'andamento dei nostri lavori, se non siamo veramente teutonicamente rapidi, la lezione prevista alle 10.40 potrà scivolare come prima del pomeriggio anziché finale, non prima del pomeriggio, prima della seconda sessione anziché ultima della prima sessione, sarà soltanto un cambio di sedie, non ci sarà grande cambiamento, grande problema. Prima di tutto voglio dire la soddisfazione dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, che è una delle accademie nazionali tradizionali, 200 anni di vita e comunque cerchiamo di portare gli anni nel migliore modo possibile, la soddisfazione dell'Istituto di poter organizzare un incontro di questo livello, di questa importanza, un livello di un'importanza che erano assoluti comunque, ma che in queste congiunture, ponendosi in un momento molto complicato per quelle che sono le questioni legate al tema che oggi trattiamo, in queste congiunture diventa anche estremamente attuale, attuale lo era già, lo è tanto più oggi per quello che sapete meglio di me, che tutti sappiamo che sta succedendo nel nostro paese, in Italia, in Italia centrale. Qui mi permetto, essendo questo Istituto Veneto, di dire senza nessun orgoglio, ma con una certa commozione che è dal Veneto che sono arrivati in diversi centri dell'Abruzzo i primi soccorsi, che non ci riguarda direttamente per quanto attiene ai nostri lavori. Vorrei aggiungere soltanto due parole sul senso reale, profondo, ma è superfluo per voi sentirlo, ma è importante per me dirlo, l'importanza che ha un incontro, un convegno, incentrato su qualcosa che è accaduto nel 1117, il 1117 preistoria rispetto alla rapidità dei tempi nostri. Certamente è stato da quello che si sa, da quello che ci avete insegnato, che ci ha insegnato chi si occupa soprattutto di terremoti storici, è il maggiore terremoto che l'Italia ha conosciuto. E allora c'è il problema che è importante salire così indietro con i problemi forti che ci sono oggi. È un ragionamento abbastanza semplice, anche voi l'avete già in mente, è l'importanza del passato. Se non si conosce il passato non si riesce bene a progettare il presente, non è un esercizio culturale andare indietro fino al 1117 e anche oltre. È un modo per conoscere meglio un problema della cui importanza, non dico attualità anche quello, ma della cui importanza, certamente qua dentro siete tutti convinti. Quindi io ringrazio gli organizzatori del convegno, ringrazio in primo luogo in quanto credo che abbia avuto una posizione essenziale a livello propositivo Emanuela Guidoboni con cui ci conosciamo da tanto tempo. Quindi ringraziare lei e ringraziare ancora Carlo Doglioni, che è un socio di questo istituto, un socio molto attivo e che poi vedremo nel modo che vi ho detto. I lavori sono molto densi, quindi cercheremo di rispettare il più possibile i tempi e questo vale per tutti noi, soprattutto per chi deve coordinare. E darei subito la parola a lei per un saluto davvero importante, non un saluto di un ospite, ma il saluto di un competente. Grazie Presidente. Prima di tutto, da parte del Centro EDS, vi auguro un buon anno nuovo. Il Centro EDS sui eventi estremi e disastri fu fondato parecchi anni fa da Emanuela Guidoboni e Gianluca Valenzise e si occupa di un po' di divulgazione scientifica dei disastri e particolarmente dei terremoti che purtroppo avvengono troppo frequenti in Italia, ma anche alluvioni, frani, eccetera. Il Centro organizza dei piccoli convegni. Ad esempio, pochi anni fa ha organizzato un piccolo convegno in Calabria sul titolo Prevedibile e Imprevedibile e un libro uscito, pubblicato, molto interessante. E questo convegno qui è importante perché questo terremoto fu, alla distinzione per la sismologia storica, di avere un gran numero di fonti scritte. Era, spero, eccezionale, ma vi ringrazio di essere venuti così numerosi per ascoltare gli eminanti oratori che vi parleranno di questo terremoto. Sono sicuro che imparerò molti cose su questo terremoto e vi ringrazio. Grazie. Grazie. Io direi che possiamo cominciare, chiedo al nostro tecnico, se siamo già in condizione di far partire il collegamento. Sì, adesso vediamo se è certo o meglio prendere il posto. Può partire o... Il problema non era il video, era l'audio. Nel caso... No, c'è anche l'audio. Le luci. Pronto, buongiorno a tutti. Non so se mi riuscite a sentire. Prima di tutto mi voglio veramente scusare per non poter essere presente. Vorrei ringraziare moltissimo il presidente Gerardo Ortalli, la cancelliera Giovanna Palandri, la dottoressa Lucia Macaluso per tutta l'organizzazione del convegno. Poi ovviamente devo ringraziare i colleghi Emanuela Guido Boni e Luca Valensise che sono i veri mediatori di questo convegno che è dedicato a un tema veramente particolare perché sappiamo ancora molto poco di questo importantissimo terremoto del nord Italia del 1117. Io ero stato chiesto appunto dagli organizzatori di fare una breve introduzione sul contesto geodinamico della zona e ovviamente il veronese si trova nella parte meridionale a sud nell'avampaese alpino. In questa sezione del crop, il transalpa, si vede molto bene la sudduzione della placca europea al di sotto della placca adriatica e il doppio cuneo che si realizza con l'orogene alpino. Tutto il sud alpino e la parte meridionale che dalla linea della pusteria attraverso le dolomiti si provoca. Si propaga fino all'avampaese con il fronte attivo nelle Alpi Venete di cui vediamo appunto il sovrascorrimento del Montello, la linea di Bassano, la linea di Belluno, la linea della Val Sugana e il retroscorrimento della linea di Funes. Più in dettaglio nella parte meridionale in una sezione tipo si vede appunto il basamento coinvolto con la linea della Val Sugana per arrivare appunto alla linea di Bassano e poi il sovrascorrimento del Montello nella zona esterna in cui chiaramente i basamenti sono coinvolti e vengono anche in qualche modo ritagliate anche tutte le paleostrutture mesozoiche. Così come esempio tipico delle strutture che sono presenti nella zona proprio tipiche, per esempio la linea della Val Sugana con la piega per propagazione di faglia, la Dolomia principale, il Triassico che sovrascorre il Cretaceo a Letto, oppure la linea di Belluno con l'anticlinale per propagazione di faglia, con il Giurassico e il Triassico che sovrascorrono il Terziario, con geometrie tipiche che sono delle pieghe per propagazione di faglia, le quali sono la geometria più frequente in tutto il Sud Alpino. Questo tipo di deformazioni chiaramente non avviene in modo stazionario, ci aspettiamo invece ovviamente un regime episodico che è tipico appunto della parte fredda superficiale della crosta, quindi in una parte profonda d'utile ci aspettiamo uno shear stazionario e nelle zone di sovrappressione viene accumulata l'energia elastica che poi viene rilasciata durante il terremoto. con l'espulsione di questa parte dell'anticlinale, quindi della crescita dell'anticlinale stessa associata a questo rilascio di energia. Nella parte a Sud però abbiamo anche la catena peninica con la sua propagazione da Sud verso Nord del prisma di accrezione di sopra della placca adriatica, che quantomeno dal Pioceano inferiore si è propagato fino alla posizione attuale che è nell'arco delle pieghe ferraresi oppure negli altri archi che proseguono verso l'adriatico o verso il Monferrato a ovest e questa è la parte di prisma di accrezione che noi possiamo considerare attivo, che rappresenta all'interno della sudduzione questo dettaglio che è la parte che viene spellata dalla litosfera adriatica che scende in sudduzione sotto l'appennino. Questo ha delle implicazioni importanti anche per la geodinamica dell'Italia settentrionale. In queste due sezioni, questa nell'appennino meridionale, settentrionale, nella parte meridionale della pianura padana o in questa verso il Friuli, si vede che c'è estensione nella parte appenninica e contrazione nel prisma di accrezione. Stiamo parlando di circa 2-3 mm di contrazione, contrazione di valore simile anche a quella che si osserva in Friuli, appunto sempre dell'ordine dei 2-3 mm all'anno. Un altro parametro importante che possiamo considerare è la inclinazione della monoclinale regionale, cioè proprio il basamento che si infossa al di sotto del prisma di accrezione appenninico, noi misuriamo proprio l'inclinazione del tetto della litosfera che scende in sudduzione. In questa linea crop, per esempio, proprio nell'offshore di Venezia, si vede l'inclinazione del basamento e questo livello che non corrisponde veramente al passaggio Pestocene-Piocene, ma è un'isocrona di circa 1.400.000, ci permette di quantificare la subsidenza in circa un millimetro l'anno, che è poi la subsidenza di 10 cm al secolo che caratterizza purtroppo Venezia. La sezione che vedevamo prima è in questa parte e ci indica che questo spessimento verso sud-ovest è l'effetto della subduzione appenninica verso nord-est e quindi determina questa subsidenza. Quindi questa è la cerniera della subduzione della placca adriatica che scende in subduzione sotto l'appennino. In mappa i terremoti più importanti in Italia sono concentrati o lungo la dorsale appenninica oppure al fronte del prisma d'accrezione oppure nell'Italia settentrionale, nella parte meridionale del sudalpino. Quindi qui avvengono terremoti compressivi in zone di bassa topografia, qui avvengono terremoti compressivi sempre in zone di bassa topografia nel prisma d'accrezione, e qui invece avvengono terremoti estensionali in zone di alta topografia. L'effetto può essere spiegato in questo modo, cioè i terremoti compressivi, per esempio il terremoto del Friuli o quelli che ci potranno essere sul fronte prealpino Veneto o quelli della pianura padana, sono legati al fatto che i sovrascorimenti riescono a muoversi più facilmente dove il carico litostatico è minore, perché in un ambiente compressivo il carico litostatico è il sigma 3, lo stress minimo, quindi lo stress minimo da una condizione di maggiore topografia, da questo punto si sposta a sinistra, quindi allarga il cerchio di Mohr e lo può portare a rottura. Quindi questa è la motivazione meccanica del perché i sovrascorimenti sono più attivi nelle zone di bassa topografia, viceversa le faglie normali sono più attive dove c'è alta topografia. Ora dall'anno 1000 ad oggi nel nord-est italiano si registrano molti terremoti, come vedete, che sono ritrovabili nel catalogo parametrico dei terremoti italiani e il terremoto più importante di tutti è proprio il terremoto di Verona che ha una magnitudo che secondo alcuni lavori, tra cui i più importanti sono appunto quelli di Guidoboni e coautori, propongono una magnitudo anche vicina a 7. Qui è il terremoto più importante, come vedete, come magnitudo di tutti questi ultimi mille anni. La sismicità nel nord-est, quindi partendo dal terremoto di Verona che è localizzato in questa posizione che ha veramente del misterioso da un punto di vista geologico, almeno come localizzazione rispetto alle strutture tettoniche che conosciamo, poi abbiamo tutti gli altri eventi che sono comunque caratterizzati da essere posizionati in vicinanza a dei sovrascorimenti o di zone di traspressione, ma comunque nelle zone di bassa topografia. I punti di domanda ci dicono dove dovranno essere i prossimi terremoti importanti nell'area Veneta, perché quelle sono le zone in cui ancora non c'è stata rottura oppure ci saranno rotture dei sovrascorimenti esterni o del Montello o della linea di Bassano, sempre per l'effetto di bassa topografia, quindi della zona di maggior facilità di innesco. Allora il terremoto del 1117, dicevamo, non ha un'evidenza chiara di quale sia la sua natura. Ci sono tre possibili cause, o l'effetto di piegamento della litosfera per la monoclinale che vedevamo prima, oppure è un sovrascorimento al fronte delle Alpi meridionali, oppure è l'estremo nord del prisma di accrezione appenninico. Allora nel primo caso, qui vediamo la localizzazione che le varie posizioni dell'epicentro che sono state assegnate in questo importante lavoro di Guido Bonietali del 2005 e prendendo grosso modo l'area veronese, compresa appunto tra Verona e Iberici o leggermente spostato a sud, oppure alla base del plateau dei Lessini, con questo tipo di meccanismo focale noi potremmo ipotizzare una faglia normale che è legata all'effetto del piegamento della litosfera. Queste tipologie di faglia in linea sismica si vedono, questa è la monoclinale regionale associata alla sudduzione appenninica, che è la propagazione verso sud dei Monti Lessini e questo è il riempimento della vanfossa appunto legato allo spazio di accomodamento creato dalla sudduzione e dai sedimenti trasportati ovviamente dai fiumi alpini, a incominciare dall'Adige e ovviamente dal Po. Però non ci sono faglie così importanti da poter giustificare apparentemente un terremoto di questa magnitudo, sebbene comunque delle faglie normali ci siano e siano frequenti in tutte le zone in cui la monoclinale regionale si inflette con angoli così alti come quello che caratterizza il fronte appenninico nella parte settentrionale, perché si raggiungono anche oltre 20 gradi di inclinazione. Un'altra ipotesi è quella che il terremoto del 1117 sia invece legato a un sovrascorrimento, un sovrascorrimento o legato alla zona di transpressione che dall'arco di Milano entra nel sistema giudicariense, più spostato leggermente appunto ancora verso sud-est rispetto a quelli noti in superficie, con un meccanismo focale, in questo caso compressivo e non trastensivo come quello precedente o distensivo, in questo caso potremmo ipotizzare la presenza di uno di questi sovrascorrimenti, che in effetti in una sismica, sempre Agip, in questo lavoro di Rogledie 2010, sembrerebbe vedersi che ci siano dei sovrascorrimenti che in sismica sono queste strutture che oggettivamente sono attive e che ritagliano ovviamente il Pleistocene, quindi questo è un candidato decisamente significativo per un'ipotesi del terremoto del 1117. L'ultima possibilità è che in realtà la localizzazione potesse essere leggermente più a sud e che il terremoto del 1117 fosse legato al fronte più esterno del prisma d'accreazione appenninico, in questa zona in cui i terremoti tipo quello del 2012 avesse avuto anche dei presenti in queste strutture più esterne al prisma. Io personalmente non sono ovviamente convinto di questa terza ipotesi, però è qualcosa che forse valerà quantomeno la pena di considerare. Questa è la posizione del terremoto del 2012 con il sovrascorrimento dell'anticlinale di Ferrara del 20 maggio, dell'anticlinale di Mirandola appena dietro, che corrispondono anche in questo caso a dei sovrascorrimenti attivi che conosciamo dalla sismica riflessione e che quindi in qualche modo potrebbero spiegare terremoti di questa magnitudo. In sostanza noi abbiamo tre ipotesi, quella del bending della litosfera in subduzione, quella del fronte sudalpino o quella del fronte appenninico. Personalmente non ho una convinzione definitiva, questo è il contesto geodinamico, se dovessi propendere per una di queste opzioni forse sarei più per la soluzione 2 come ipotesi di lavoro, però è qualcosa assolutamente da dimostrare. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso sinceramente per non essere lì, perché penso che sarà un convegno bellissimo e vi auguro una buona giornata. Sì, forse visto che siamo in collegamento, se ci fosse qualche domanda che deve essere fatta, possiamo farla ora, che è da parte di qualcuno di voi. Siamo ancora nella fase della meditazione di questo contributo, così chiaro fra l'altro, così chiaro anche per chi non è specificamente addetto ai lavori. Ti ringrazio molto, ti ringrazio molto Doglioni, per questa cosa così chiara e significativa che ci hai dato. Ed ora credo che possiamo riprendere i nostri lavori col calendario normale, per cui chiamerei Manuela Guido Boni, che è la prima che si illustrerà tra i cosi. Non sono stati messi i cavalieri ancora, poi verranno. Forse lo fa. Guarda. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti per questa scorribanda nel tempo. È un'occasione veramente particolare di occuparci di un terremoto così lontano, e speriamo anche così lontano in senso concreto. Mi sono chiesta, quando mi sono accorta di questa coincidenza cronologica dei 900 anni dal terremoto, se poteva essere l'inizio anche di un discorso multidisciplinare più complesso che difficilmente viene fatto nelle sedi della ricerca universitaria. E quindi c'è questa occasione splendida che offre l'Istituto Veneto di accogliere dialoghi a più voci e discipline diverse. Quindi spero che sia veramente l'inizio, il momento di unione di interesse fra storici, cosmologi storici, ingegneri, architetti, geologi, per capire meglio questo problema. Cioè i caratteri dei terremoti e i loro tempi, diciamo, di ricorrenza, di ritorno negli istinti. Ora, il 1117 presenta anche un carattere particolare dal punto di vista culturale. È un terremoto molto documentato, eccezionalmente documentato per il XII secolo, per l'Europa di quel periodo, perché è un evento europeo. E noi siamo, come Italia, un paese che ha questa grande opportunità, forse l'unico paese al mondo che può analizzare un terremoto avvenuto 900 anni fa. Questo grazie allo straordinario patrimonio culturale e storico che abbiamo, grazie anche agli studi che partirono addirittura nei primi anni Ottanta su questo evento. E quindi io vorrei, diversamente da altri tagli che mi seguiranno del discorso, evidenziare un percorso di ricerca che è stato fatto e mostrare anche il valore culturale, oltre che scientifico, di questi studi. Quindi è una memoria molto particolare, iniziata, ho detto, negli anni Ottanta, e credo che sia interessante presentare molto scientificamente questa storia della ricerca. E' cominciata nell'Ottantadue, ha avuto una prima fase tra l'Ottantadue e l'Ottantaquattro, e all'inizio è stata una ricerca solitaria, poi l'organizzazione del lavoro è cresciuta, e quindi siamo riusciti ad arrivare alla fine dell'Ottantaquattro con una visione già complessa di questo evento, ma soltanto italiano. La seconda fase è stata nel 94-2000, quindi c'è stata un'estensione della ricerca documentaria, e un'analisi sistematica di tutta l'analistica europea, un'analistica che è stata prodotta dalla rete straordinaria dei monasteri benedettini di quel periodo, poi vedremo qualche cosa più in dettaglio, e in questa fase sono stati messi a disposizione i risultati nelle tre versioni del catalogo dei forti terremoti, 95-97-2000. Quindi c'è stata una disponibilità di questi dati, perché questa è la linea di ricerca, cioè gli studi e la disponibilità, prendo anche fronti di discussione. E questi sono i tre cataloghi, che contengono, assieme agli altri 1200 terremoti, contengono lo studio ravvicinato di questo evento, 95-97-2000. Poi c'è stata una terza fase, dal 2004 al 2005. Sono stati integrati nuovi documenti, e soprattutto è stata fatta un'analisi cronologica oraria. Nell'affrontare il problema delle ore per il XII secolo non è un tema consueto degli storici, che si occupano di eventi vicini, sì datati, ma non all'interno di un sistema orario. Non c'erano questi bisogni. Invece in questo caso è proprio presentata la necessità di indagare perché gli annali monastici benedettini e le altre cronache riferivano in modo diverso il sistema, in modo diverso indicavano delle scosse. Questa è la copertina del catalogo che ha recepito questa fase della ricerca. Lo voglio ricordare perché è stata anche una grande occasione, vedete, non sono solo i terremoti italiani, ma dell'area mediterranea, una grande occasione per confrontare la capacità informativa delle fonti del XII secolo in culture diverse. Quindi abbiamo paragonato anche le fonti arabe per lo stesso periodo che parlano di terremoti ovviamente della zona mediterranea e abbiamo visto che sì, noi avevamo nelle nostre fonti indicazioni apparentemente più generiche e vaghe perché c'era il grande filtro dell'interpretazione religiosa e non c'era ancora la cultura della precisione ovviamente che è venuta dopo e una scarsa attenzione a noi è sembrata nel dettaglio degli effetti ma dovuta a filtri culturali del tempo. questo ci ha stimolato ad affrontare ancora più da vicino tutto quello che le fonti potevano darci in questa dimensione mentre le fonti per esempio arabe erano molto più ricche per i loro terremoti di dettagli anche di informativi. quindi abbiamo affrontato questa situazione che apparentemente era quasi inaffrontabile perché appariva una nuvola di informazioni e lo vedremo questo è il catalogo in rete che dal 2007 contiene queste informazioni vedete sono tutti anche i terremoti di area mediterranea quindi un quadro molto vasto quindi ci siamo posti proprio l'obiettivo di comprendere questo straordinario corpus di fonti che avevamo individuato nell'analisi che abbiamo fatto di tutti gli anali monastici sono praticamente stati selezionati su 163 anali e cronache sono stati selezionati 72 fonti coeve vedete già sono numeri molto consistenti di queste 60 anali monastici interessanti perché sono stati proprio prodotti dai vari monasteri 32 in Germania 3 in Italia 3 in Inghilterra quindi c'era un ambito fino per esempio questi sono quelli che contengono informazioni memoria o ricordo nel terremoto del 1117 quindi è il frutto di una selezione 12 anche cronache italiane di ambito italiano cittadine vescovili calendari liturgici notule diciamo un quadro più complesso per l'Italia mentre per l'Europa ci siamo ottenuti solo alla rete degli anali monastici inoltre sempre per l'area italiana abbiamo individuato 16 documenti d'archivio sono pergamene sono o atti processuali interessantissimi perché il terremoto è ricordato dai testimoni come una data epocale dopo vedremo alcune immagini anche molto suggestive oppure libri di conti di alcune chiese in cui si ricordano dei lavori fatti con i costi e quindi una segnatura precisa di alcuni interventi oppure atti relativi a decime quindi anche qui è molto variegato il panorama della documentazione archivistica e infine abbiamo selezionato 18 epigrafi questo è interessante perché sono memorie puntuali presenti sul territorio purtroppo non tutte le 18 epigrafi hanno lo stesso valore informativo 4 hanno riferimento diretto al terremoto e 14 sono sembrate riconducibili al terremoto attraverso la data di ricostruzione o riconsacrazione della chiesa quindi le abbiamo ipotizzate come afferenti direttamente al terremoto ma 4 hanno indicazioni precise quindi è uno straordinario corpus informativo la base di queste informazioni quantitativa è dovuta a questa rete straordinaria dei monasteri europei del XII secolo in cui c'è una grande enfasi una grande fama di questo evento e qui sono evidenziati quelli cluniacensi in rosso e cistercensi in verde quindi ci siamo trovati davanti a una situazione straordinaria ma anche in certo senso un po' enigmatica in questa mappa vedete la localizzazione di questi monasteri che hanno prodotto informazioni sul terremoto nei loro annali è un quadro che lascia perplesso perché cosa significava che questo terremoto era stato sentito dappertutto oppure era soltanto un evento famoso trasmesso come curiosità per gli spostamenti dei monaci i racconti che potevano sentire quindi erano domande che ci hanno ovviamente assillato quasi per anni qui faccio scorrere alcune immagini anche per darvi la sensazione di questa distanza culturale che c'è fra noi oggi e queste testimonianze questo è un calendario liturgico della chiesa di santa trinità del monte olivieto di verona conservata la biblioteca vaticana inizia proprio siccome il terremoto è avvenuto il 3 gennaio inizia proprio con la memoria di questo evento come una memoria importante per questo monastero ecco questa è una delle pergamene invece di un processo in cui il test ricorda chi redige l'atto scrive lui aggiunge che c'era stato un terremoto nello stesso anno per darvi l'idea di questa memoria che si sedimenta nelle comunità locali anche qui il testimone dice ego recordor tremotum quindi in una zona in cui qui siamo nell'altemiglia piacenza i terremoti forti non sono fortunatamente frequenti terremoto del 1117 si pone come una data epocale un punto di riferimento cronologico qui ancora in questo processo interessante perché dice iuratus digit ego recordor terremotum quindi il terremoto diventa un punto di riferimento per cose avvenute prima o dopo poi ci sono questa bellissima questo è un particolare della notula di Guido Pisano che è un autore contemporaneo e concordemente ad altre anali tedesche ricorda due scosse una nella notte e l'altra nel pomeriggio quella della notte senza danno e nel pomeriggio invece con gravissimo panico e danno e parla anche della Toscana quindi noi ci siamo trovati davanti a moltissime indicazioni che sembravano quasi non riconducibili a un evento solo questa è la localizzazione delle epigrafi le quattro con informazione diretta sono i quadrettini neri vedete che qui siamo tra Verona Costossa Padova la bassa veronese fino a Nonantola che è di cui poi vedremo nel seguito di queste relazioni un approfondimento quindi siamo nell'Alte Miglia tutto spostato quindi sulla pianura padana ecco qui sono alcune immagini di queste epigrafi molto suggestive questa è quella di Nonantola appunto su cui nel portale della chiesa c'è questa lunga iscrizione che comincia Silvestri Celsi Cecidernut Culmina Templi ricorda la caduta poi vedremo come l'archeologia e l'approccio moderno ridefinisce questa bellissima epigrafe quest'altra è un epigrafe nel corpo di un campanile di Costosta in cui si ricordano tre terremotti il 1117 il 1222 altro evento molto importante dell'Italia settentrionale il 1348 quindi la memoria locale fissava queste informazioni direttamente nel corpo degli edifici un'immagine ed insieme di questo straordinario corpus documentario per tipologie diverse quindi ci sono gli studi storiografici in rosso sono le fonti indirette le abbiamo considerate indirette quelle che sono più tardi avvenute anche alcuni secoli dopo le epigrafi gli anali monastici forse funziona questi sono gli anali monastici e le cronache vedete che costituiscono quasi il 20% i documenti abbiamo considerato tutti gli studi precedenti e tutto questo grande settore è la letteratura degli storici dell'arte sulle architetture del tempo un grande problema di per sé in questo terremoto che affronteremo anche in altre relazioni un problema estremamente interessante di dialogo fra le discipline ma anche di constatazione che mancano e mancavano allora e oggi forse un po' meno ma mancano ancora studi molto precisi che uniscono questi occhi diversi dalle fonti scritte al corpo degli edifici allora qui abbiamo dovuto affrontare un problema grosso per dare ragione di questa grande dispersione di informazioni ben nove anali monastici contemporanei dieci fonti italiane fanno riferimento a due forti scosse le ore sono indicate con diversi termini allocuzioni quindi non c'era un'immediata identificazione e ci siamo dovuti ad entrare per capire meglio la misura del temporario che è stata l'ultima fase della ricerca nella cultura monastica del XII secolo è stato un problema abbastanza complesso corro tanto per farvi così dare la sensazione di questa distanza culturale il computo delle ore era quello ereditato dall'antichità romana e quindi si distinguevano due cicli temporali di 12 ore ciascuno uno diurno dall'alba al tramonto e quello notturno dal tramonto all'alba ancora venivano usate le ripartizioni in tre ore quindi quattro parti di tre ore ciascuno perché era il calco delle esigenze delle guardie militari quindi questo è lo schema entro cui però si inserisce dopo la cultura monastica ecco da non dimenticare che loro usavano le ore di luce quindi le ore diurne notturne erano di durata ineguale qui c'è appunto lo schema che si usa per mostrare sotto ci sono i nostri minuti siamo abituati a una cultura della grande scansione precisa e invece si seguiva quella della luce e quindi c'era questo è il tempo medio solare e queste sono le differenze orarie rispetto al nostro uso attuale quindi noi abbiamo dovuto affrontare questo problema delle ore ma in relazione anche alla latitudine diversa come facevano a misurare il tempo ovviamente avevano clessidre orologi ad acqua quindi potevano misurare il tempo e c'era una grande tradizione in questo senso ma abbiamo dovuto affrontare un altro problema cioè non solo le ore canoniche ma le variazioni che la cultura alto medievale monastica aveva portato a questo sistema perché furono aggiunte due nuove ore l'ora prima che coincideva con l'alba e la compieta col tramonto questo aveva poi portato quindi vedete lo schema ora et elabora a spostare le ore rispetto al vecchio computo questo ha portato alla retrocessione del matutino sembrano tutte cose stravaganti quasi esoteriche però è la strada che ci ha indicato l'esistenza poi di questi due eventi separati nel tempo quindi la variazione tra riti liturgici e ore canoniche che era stata fatta nell'alto medioevo e praticata nei monasteri aveva spostato aveva praticamente unificato al matutino la liturgia della notte quindi tutto era retrocesso verso la notte e questo ha comportato anche modi diversi di indicare una stessa ora ovviamente dei minuti non possiamo minimamente parlare diciamo che è un'approssimazione però importante e quindi ci siamo addentrati e qui vedete salto tutti i passaggi i problemi che abbiamo avuto abbiamo cercato sotto c'è il nostro sistema orario vedete scandito in modo uniforme e questo è il sistema praticato invece nel XII secolo dai monaci e quindi i giorni non coincidevano i nostri finiscono a mezzanotte e loro da tramonto a tramonto qui seguendo questa strategia abbiamo visto che c'è una scossa che coincide nelle varie una scossa nella notte che coincide in varie fonti e una scossa nel pomeriggio con una distanza di circa 12 ore e questa è stata la chiave di lettura che ci ha finalmente sollevato da questa visione un po' caotica e fumosa che c'è sempre stata per moltissimo tempo su questo evento allora abbiamo visto che c'è una serie di annali monastici germanici di area germanica francese svizzera e austriaca che ricordavano effettivamente un evento successo nella notte in questa zona una zona di confine fra la Germania la svizzera proprio l'Austria quindi sentito in questi paesi e recepito dagli annali e interessante perché è un terremoto che non era nel catalogo per esempio tedesco loro parlavano nel 1117 di un risentimento che avevano avuto dal terremoto italiano quindi invece c'è un terremoto in quest'area e vediamo che circa 12 ore dopo avviene l'altra scossa importante che comprende il Veneto la Lombardia e l'Emilia e siamo riusciti a classificare 73 località la cosa interessante è che questo terremoto dopo vedremo il particolare è stato sentito anche di là è ricordato quindi abbiamo cercato di districare questo insieme di testimonianze che sembravano non riconducibili a un evento unico e questo è il particolare dell'area colpita italiana vedete che è piuttosto grande perché comprende a nord vedete abbiamo Bergamo Monza Milano e tutta la parte della pianura padana l'ambisce anche è ricordato anche a Faenza non Antor si trova qui con danni gravi e tutta l'area veronese bassa veronese e quindi ci è sembrato un quadro veramente imponente per il tipo di testimonianze e per l'estensione anche dei danni questa è un'immagine semplificata in cui potete vedere questa impronta che ha lasciato questo terremoto noi l'abbiamo valutato di magnitudo 6,9 adesso 6,5 mi sembra ancora un po' basso però insomma diciamo che può essere ancora rivisto sulla base di studi soprattutto riguardanti gli effetti nelle grandi cattedrali sono studi estremamente importanti che ci aiuterebbero a capire ancora meglio questa situazione l'intensità epicentrale è di nono grado MCS quindi è un evento importante della pianura padana è senz'altro il più forte che è stato registrato in questi ultimi mille anni e nelle fonti soprattutto in Guido Pisano c'è stata l'indicazione di un risentimento forte in questa zona del Serchio e di Pisa con danni confermato da alcuni studi archeologici sui castelli di questa zona che avrebbero subito imponenti restauri proprio alcuni decenni dopo l'inizio del XII secolo noi abbiamo fatto l'ipotesi che potrebbe essere un effetto della grande struttura della Garfagnana però questa è un'ipotesi non abbiamo altre informazioni ecco quindi che il quadro complessivo diciamo dei tre eventi che abbiamo districato in queste enorme rete di testimonianze pone questo evento quindi di là dalle Alpi più piccolo come intensità e magnitudo molto più piccolo di quello italiano però il primo poi il secondo che ha colpito tutta la pianura e questo probabilmente la Garfagnana ma non abbiamo molte informazioni probabilmente la data del 1117 ha tratto è probabile questo terremoto per cui abbiamo solo una testimonianza scritta diretta questo è un quadro interessante che pone anche certamente dei problemi e delle delle ipotesi quindi sentiremo nel seguito le interpretazioni sismologiche e geologiche ecco quindi io credo che sia un momento di riflessione multidisciplinare di interesse non sono tantissime le occasioni che si presentano per un dialogo multidisciplinare ma questo terremoto l'ha presentato e spero che sia anche l'inizio di un dialogo nuovo e più fattivo a partire da questi dati e spero anche che nel seguito si possano togliere i dubbi e magari arricchire ulteriormente questo quadro di effetti grazie avrei finito bene grazie per questa presentazione ricchissima puoi stare io credo che se stai forse alla fine di questa prima sessione ci sarà tempo per qualche domanda intanto pregherei forse gli altri relatori di questa sessione di salire qua a farci compagnia adesso darei darei la parola a Paola Galletti ci muoviamo sempre in ambito di ricerca storica di ricerca storica molto mirata comunque sempre le darei subito la parola buongiorno a tutti vi ringrazio il mio intervento è un po' particolare in questo contesto nel senso che non parlerò del terremoto del 1117 ma cercherò di fornire un quadro per quel che riguarda la situazione del popolamento il contesto ambientale e le strutture insediative quindi il contesto in cui si andrà a inserire questo evento sismico di così importante portata partiamo da alcune considerazioni di fondo diamo i numeri come potrei dire su quello che era la situazione del popolamento vi presento qui brevemente faccio una premessa ho impostato un powerpoint che vi permette di seguire passo per passo quello che poi a voce vi andrò dicendo iniziamo con la presentazione molto sintetica di una bibliografia sulla popolazione italiana nel medioevo molto sintetica che parte dal saggio del belloc della fine dell'ottocento per arrivare poi agli ultimi lavori che sono stati condotti su questo tema con un approfondimento su un nuovo approccio alla demografia storica che mette in relazione demografia storica e quindi gli studi di storia e di archeologia e poi anche il riferimento a soprattutto le considerazioni che fa ERS e riprendo anche le considerazioni che aveva fatto nel 1996 Antonio Ivampini sulle problematiche relative le fonti utili per lo studio della demografia storica medievale una prima considerazione comunque va fatta dobbiamo rilevare la povertà lo scarso valore demografico se ragioniamo secondo i moderni criteri scientifici delle fonti che sono arrivate sino a noi per gran parte del medioevo e che ci impediscono quindi di approfondire molti aspetti e che lasciano il campo a congetture certamente supportate dalla logica ma comunque sempre congetture dobbiamo considerare il fatto che fino al tredicesimo secolo non esistono fonti quantitative poche eccezioni le cose vanno molto meglio direi per gli ultimi tre secoli del medioevo abbiamo censimenti fiscali registri di battezzati e morti catasti ma comunque anche per il basso medioevo si tratta di isole documentarie all'interno di un quadro che resta in buona parte grigio per carenza di fondi però un'osservazione va fatta si può contare sulla capacità degli storici e qui mi fido molto del lavoro che noi storici possiamo portare avanti di cogliere bene quella la genesi delle singole fonti soprattutto quelle più specifiche in rapporto al tema che ci interessa e sulla propensione ad allargare lo spettro della documentazione utile a fonti che apparentemente sembrano lontane da quelle che sono le problematiche demografiche nel 96 Antonio Ivampini aveva proposto quindi una proposta di classificazione delle fonti utili per lo studio della demografia medievale italiana che qui sinteticamente vi propongo e che considera fonti primarie secondarie sussidiarie artificiali è uno spettro molto ampio di fonti utili e da considerare fate queste precisazioni vorrei segnalarvi che i dati di fatto saranno riferiti a quella che è stata definita età dell'espansione potremmo considerare il periodo che va dall'undicesimo al tredicesimo secolo sia in generale per l'Italia entro i confini attuali sia per quel che riguarda il territorio che più ci interessa quindi l'Italia settentrionale è la pianura padana è molto difficile scorporare la sola fase cronologica interessata dall'evento sismico di riferimento e cominciamo a dare un po' di numeri in base allo studio di Locascio Malanima del 2005 lo stime che sono state fornite della popolazione italiana dal 700 al 1400 vedono per il 1100 1100 10,5 milioni di unità per quel che riguarda il popolamento e sulla base di queste stime durante la ripresa di popolazione medievale quindi fra il periodo che va dall'800 al 1300 il tasso di incremento annuo della popolazione italiana in generale fu dello 0,09% e anche nel periodo più vivace il 200 l'aumento non superò lo 0,13% annuo se poi prendiamo in considerazione anche stime più tradizionali fornite precedentemente dal Belo che da Belettini che andavano prevedevano per il periodo dal 900 al 1300 un passaggio da 4,5 milioni di italiani a 11 milioni anche in questo caso il tasso di incremento sarebbe stato molto basso di poco superiore allo 0,2% annuo prendendo un altro studio Carlo Cipolla siamo nel 74 una prima osservazione che fa è significativa siamo di fronte a cifre approssimative con un margine di errore del 20% e oltre e fornisce un quadro di confronto tra la situazione italiana e quella di altri paesi europei come Francia Germania e Inghilterra e i dati che sono forniti nel range cronologico dal 1000 al 1300 varia da 5 milioni di unità a 10 milioni di unità altri dati Giuliano Pinto un medievista che ha studiato i dati sul popolamento nel 99 mette a confronto la situazione italiana con quella di altri paesi europei e nel 96 aveva individuato un dato significativo che qui teniamo presente in questa sede per quel che riguarda l'arco cronologico fra l'undicesimo e il tredicesimo secolo tra i 10 e i 15 milioni di abitanti con un dato intermedio che per noi è significativo qui verosimile di 12,5 milioni di abitanti altro dato importante la densità della popolazione oltre a un diciamo così fornirvi qualche elemento di paragone con la situazione di altri paesi europei vorrei ricordarvi che in Italia era presente una fittissima maglia urbana e si raggiungevano in media i 40 abitanti per chilometro quadrato con una marcata differenza fra il centro nord fortemente urbanizzato con campagne coltivate e il meridione e le grandi isole l'Italia settentrionale che quindi più ci interessa in questa sede era la parte più popolata soprattutto la Lombardia il Veneto e l'Emilia ospitava forse fra i 6 6,5 milioni di abitanti la metà circa della popolazione complessiva con una densità di poco superiore a 50 uomini per chilometro quadrato che scontava però dobbiamo ricordarlo la presenza dell'arco alpino inabitato nelle parti più elevate in conclusione al di là del valore assoluto delle cifre basate come vi ho detto prima su calcoli ipotetici e sulle quali come si è visto non vi è concordanza di valutazione da parte degli storici resta certo il dato di fatto di una crescita di popolazione particolarmente marcata per l'Italia nell'età dell'espansione ne sono segnali precisi tra l'altro la messa a coltura di nuove terre il moltiplicarsi degli insediamenti lo sviluppo di una fitta maglia parocchiale l'allargamento in fasi successive delle cinte murarie della città concentriamoci un attimo sulla popolazione urbana agli inizi del 300 dopo tre secoli di sviluppo demografico ininterrotto l'Italia contava quasi 200 centri con popolazione pari o superiori a 5.000 abitanti al vertice quattro metropoli potrei definire le europee Milano che si avvicinava oltrepassava probabilmente i 150.000 abitanti Venezia Firenze sui 100.000 abitanti Genova sui 60.000 c'era poi un gruppo di 8-9 città con una popolazione di 40.000 abitanti e oltre Verona Padova Brescia Cremona Bologna e scendendo verso il centro sud Pisa Siena Roma Palermo c'era poi un numero più consistente circa 12 centri di media importanza tra i 20.000 e i 40.000 abitanti e una miriade di centri urbani minori tali erano poi potremmo dire soltanto per l'Italia circa 60 centri tra i 10.000 e i 20.000 abitanti più di 110 tra i 5.000 e i 10.000 abitanti quindi in Italia la popolazione urbana superava complessivamente i 2 milioni e mezzo di abitanti avvicinandosi forse ai 3 milioni in questa carta che riguarda il popolamento urbano agli inizi del 300 è sintetizzato quello che vi ho appena esposto passo di urbanizzazione nell'ordine del 20-25% eccezionale per l'Europa del tempo e se andiamo a rapportare quindi i dati relativi alla popolazione nel suo complesso e quelli relativi al popolamento urbano e li mettiamo a confronto per l'Italia settentrionale possiamo individuare una popolazione urbana di 950.000 abitanti con un tasso di urbanizzazione del 15% e in base ai modelli che sono stati elaborati in campo della storia economica questo tasso del 15% rispecchia bene una realtà sufficientemente equilibrata tra consumatori e in larga parte cittadini e produttori di beni agricoli essenziali una distribuzione dei centri urbani che non era uniforme e che era ridotta in varie parti della penisola nel nord nelle grandi vallate alpine ad est e ad ovest della pianura padana sistemi urbani più importanti che nel nord situati lungo le principali direttrici della pianura padana una lunga teoria di città lungo la via Emilia nella fascia di pianura asciutta ai piedi delle alpi da milano fino a venezia passando per bergamo brescia verona vicenza padova tutte aree che ci interessano in questa sede particolarmente un sistema urbano equilibrato tra le città di mare e le città dell'interno legate alla costa collegate tra loro da vie fluviali o da una rete stradale rafforzata per iniziativa dei maggiori comuni rapporto tra popolazione urbana e popolazione delle campagne variava ovviamente sia confrontando le macro regioni italiane nord centro meridione grandi isole sia su base territoriale minore prendendo come spunto di riferimento le singole città stato nel primo caso prendendo il nord sono stati ipotizzati l'abbiamo visto prima indici di urbanizzazione compresi tra indici di urbanizzazione relativi al 15% quindi l'Italia del nord che però scontava come ho detto prima la presenza di una vasta area alpina che era priva in questo caso quasi del tutto di città il 30% di tasso di urbanizzazione per il centro Italia con una maglia urbana molto fitta è un'Italia meridionale con un indice di urbanizzazione che sembra alto il 25% ma che si spiega con la presenza di numerosi centri che raggiungono o superano di poco i 5.000 abitanti e che di fatto non erano grandi città ma erano grossi borghi rurali e quindi realtà differenziate ma la considerazione di fondo che possiamo fare è che l'Italia dell'apogeo medievale presentava nel suo complesso un notevole squilibrio tra popolazione urbana e popolazione rurale sul popolamento rurale altre considerazioni sappiamo devo dire molto poco in relazione al popolamento rurale rispetto e sui suoi livelli demici rispetto alla geografia urbana le fonti da questo punto di vista sono molto avare però tre elementi sono significativi in primo luogo la distribuzione che si caratterizza con una lenta discesa degli uomini verso le terre pianeggianti anche se alla fine dell'età dell'espansione il carico maggiore era sempre sopportato da aree collinari bassa montagna pianura asciutta il secondo elemento significativo evoluzione di un popolamento delle campagne che non fu del tutto in piena sintonia con quello urbano già negli ultimi decenni del duecento compaiono segnali di stasi di regresso demico con una redistribuzione di popolazione sul territorio legata anche a molti flussi migratori verso la città intensi soprattutto nel duecento terzo elemento che le aree a forte densità urbana furono caratterizzate anche da una forte densità rurale determinata in primis dalla necessità di sfruttare al massimo le risorse agricole a vietaggio del vicino mercato cittadino e una considerazione importante va fatta che in alcune aree rurali si raggiunse una densità di popolazione molto alta fra i 50 e i 100 abitanti per chilometro quadrato così nell'alta pianura Lombarda e Veneta e naturalmente in Toscana passiamo a un altro tema quello dell'ambiente naturale delle sue modificazioni dopo avervi dato un po' di numeri e su questo dobbiamo fare qualche considerazione sulla maglia insediativa rurale che subisce importanti modifiche soprattutto nel centro nord dove si sviluppa a partire dal X secolo il processo di incastellamento castra castelli luoghi di residenza del Signore di armati di famiglie contadine di artigiani e la proliferazione dei castelli che erano diversi per dimensione carico di abitanti spesso arrivavano a ospitare alcune centinaia di abitanti promuovevano quindi la proliferazione di castelli promosse la concentrazione della popolazione un caso significativo che ci rapporta all'area veronese rappresentato dall'insediamento di Nogara che fra 906 e 908 vide la costruzione di un castello qui vi presento appunto la pianura veneta tra Verona e Mantova in cui è situato il sito di Nogara che è stato oggetto di un'indagine molto puntuale inserendo la storia del sito nella studio dell'insediamento dell'area di pianura tra Verona e Mantova da parte degli storici è stato oggetto anche della ricerca archeologica e ha portato a importantissimi risultati che in questa sede non riuscirò del tutto a proporvi visti i tempi che mi sono concessi l'unica considerazione che voglio fare è che la documentazione ci dà un dato estremamente importante che ci permette di rapportarci al problema della densità di uomini all'interno di questi castelli sappiamo che nel 1920 25 capofamiglie avevano ottenuto di affittare pagando il censo case in cui sarebbero andati a risiedere nella parte di castello che era di proprietà del monastero di San Silvestro di Nonantola se noi presupponiamo una media di 4 o 5 componenti per ogni gruppo familiare ci troviamo di fronte a circa 100-125 unità solo per la parte Nonantolana quindi immaginatevi l'aumento che possiamo sicuramente avere di popolamento del Castrum Castrum che nel corso dell'undicesimo giunse in possesso del Canossa e diventò un'importante base militare dei loro domini resistendo anche a un assedio da parte dell'imperatore e in seguito poi il monastero potrebbe ripristinare la signoria sul castello che nel frattempo come comunità era cresciuta e divenuta più complessa quindi vedete una realtà insediativa complessa dal punto di vista ademico ovviamente maggiore numero di uomini maggiore richiesta di prodotti agricoli allargamento dello spazio coltivato messa a cultura di aree contigue a seminativi tradizionali opera di colonizzazione promossa individualmente forze signorili o comuni cittadini per mostrarvi un attimo la lenta erosione ma dell'incolto boscoso tra decimo e tredicesimo secolo vi metto a confronto queste due carte che sono state elaborate da Francesco Panero per il Piemonte settentrionale e che vedono l'evoluzione dell'insediamento umano e quindi la lenta erosione del manto boschivo fra decimo e tredicesimo secolo vedete come nel passaggio dal decimo al tredicesimo tutte le amplissime aree forestali che caratterizzavano la zona sono state erose dall'infittirsi delle reti insediative lo stessa sul piano insediativo dobbiamo tenere presente anche l'importanza che soprattutto si ha nell'Italia settentrionale di fondazioni di borghi franche e ville nuove molto forte nelle campagne lombarde piemontesi meno nel Veneto e in Emilia e questo naturalmente favorisce l'allargamento degli spazi coltivati questa carta vi mostra quindi come da Brescia e da Cremona sono state create diciamo così tutta una rete di nuovi centri insediativi in quel periodo nell'area della pianura dobbiamo tenere soprattutto presente il rapporto dell'uomo con le acque e da questo punto di vista ovviamente questa carta del 1840 è chiaramente esemplificativa in relazione alla rete alla carta idrografica del Po come vedete siamo di fronte oltre che al Po ai suoi meandri a una fitta rete di affluenti e di fiumi minori che poi vanno tutti a incidere sul grande collettore e quest'altra carta vi mostra del 1891 vi mostra canali e fiumi navigabili dell'Alta Italia vorrei ricordarvi anche che anche molti canali navigabili risalgono per la loro costruzione al Medioevo quindi un paesaggio delle acque soprattutto nella bassa pianura molto caratterizzato andiamo un attimo a soffermarci sull'area veronese per concludere le osservazioni visto che qui ci troviamo di fronte a un'area che è quella caratterizzata come potrei dire epicentro dell'evento sismico di cui stavamo parlando il caso di Nogara è particolarmente importante perché la ricerca archeologica ha permesso di lavorare attraverso un'indagine palinologica che è stata effettuata nell'insediamento di mulino di sotto vicino all'attuale abitato di Nogara ha permesso di individuare quelle che erano proprio le caratteristiche ambientali e le loro evoluzioni nel corso del tempo e nel passaggio tra i secoli X-XI e il XII XIV è stata individuata anche sono state individuate quelle che erano le caratteristiche ambientali per il XII secolo dell'area con quindi precisazioni proprio su quelle che erano le essenze vegetali che caratterizzavano il territorio il rapporto tra aree coltivate e tipi di coltivazioni effettuate e poi soprattutto anche una interessante riflessione sulla importanza delle specie tipiche dell'ambiente umido visto che il sito era posizionato lungo le rive del tartaro e procediamo rapidissimamente lavorando su quelle che erano le strutture dell'insediamento in territorio veronese tra IX e XII secolo già studiate da tempo studiate da tempo da Castagnetti ma recentemente anche ricordo tutta una serie di lavori di Varanini Saggioro e Brugnoli parto da una considerazione di Castagnetti del 97 che rapporta uomo su attività spazio boschivo e paludoso nella pianura bolognese nella pianura veronese individuando quindi due fasi fondamentali dell'espansione dello spazio coltivato la prima dal IX al XII soprattutto a spese della foresta che si arresta però alla fine del XII e una seconda fase più legata al dissodamento delle terre incolte dell'alta pianura e quindi a un'azione di bonifica nei confronti delle terre caratterizzate da una forte presenza delle acque come vi ho detto osservazioni precisate e articolate maggiormente nel proseguo della ricerca sono state quindi individuate delle tipologie insediative per questo arco cronologico che caratterizzavano le diverse aree una prima tipologia insediativa con strutture di modeste dimensioni di piccoli nuclei o piccoli villaggi soprattutto per la fascia collinare e per la gardesana una seconda tipologia con insediamenti di maggiore dimensione sostanzialmente accentrati che invece caratterizzava l'alta media pianura e poi una terza tipologia con un nucleo insediativo principale a cui si affiancavano altri di minore dimensioni che caratterizzava soprattutto la bassa pianura l'ultime osservazioni riguardano le caratteristiche materiali delle unità abitative nelle aree rurali soprattutto la ricerca archeologica ha fornito utili e interessanti osservazioni sull'impiego del legno che sembra essere materiale dominante tra VII, XI e XII secolo quindi una precisa scelta di sfruttamento delle risorse a disposizione una predominanza che è evidente in territori collinari e di alta pianura anche dove la pietra era presente in abbondanza come materiale reperibile questo è estremamente significativo di scelte costruttive ben precise e per la città invece ci troviamo di fronte all'emergere soprattutto per quel che riguarda il periodo fra XI e XIII secolo di una tipologia di abitazione solariata declinata secondo diverse tipologie case torri monofamiliari a più piani casa bottega funzionale a un'occupazione ottimale dello spazio rapportato quindi da rapportarsi alla crescita demografica anche se continua a essere utilizzato soprattutto come materiale accessorio il secondario il legno ma però il rimando ho già finito alla pietra e all'aterizio detto questo direi come proposta del contesto in cui inserire l'evento vorrei fare brevissimamente mi scuso del tempo perso due osservazioni conclusive in primo luogo scorrendo le testimonianze delle fonti che ricordano l'evento che sono state richiamate da Emanuela mi sembra che nessuna fonte contenga una stima delle vittime solo una considerazione generica della rilevanza dell'impatto si parla sempre da più parti ho trovato da più parti questo riferimento a 30.000 vittime però devo dire che non ho ancora capito da dove salti fuori questo dato quindi è una considerazione che va sicuramente presa in considerazione l'ultima conclusione che vorrei fare vorrei proporvi è che le testimonianze si soffermano in primis su danni e distruzioni gli edifici pubblici e religiosi in primis di maggior impatto certamente sull'opinione pubblica e di alto valore simbolico danni a edifici privati e torri sono ricordati ma non costituiscono il fatto eclatante sul quale principalmente soffermarsi forse anche le tecniche costruttive di un'edilizia residenziale ancora tecnica mista più facilmente recuperabile e sostituibile in questo caso possono costituire una chiave di lettura utilizzabile tra le altre vi ringrazio bene grazie proseguiamo con i nostri lavori dopo la collega la collega tempo bolognese passiamo a un collega veneziano a Mauro di Brenti ai quali darei la parola la presentazione del powerpoint a ogni caso il mio intervento è dedicato al problema delle strutture religiose e dei danni che possiamo in qualche modo ancora percepire in questo campo di indagine danni naturalmente relativi al sisma di cui ci stiamo occupando quindi al terremoto del 1117 e tra i terremoti che colpiscono l'Italia in età medievale quello del gennaio del 1117 ha lasciato indubbiamente un segno forte nella società del tempo ma anche in un buon numero di strutture architettoniche ancora esistenti almeno a giudicare dall'eco che tali danni hanno suscitato nella cronachistica nell'epigrafia e persino in vari documenti giuridici ma paio non aver segnato in maniera altrettanto massiccia anche l'immaginario di generazioni di eruditi prima e studiosi poi ben più di quanto non abbiano fatto altri avvenimenti analoghi per quanto riguarda l'architettura medievale non esiste una percezione del fenomeno che possa considerarsi paragonabile nel caso di altri eventi sismici anche se sicuramente importanti accaduti nei secoli seguenti almeno per quanto ne sappiamo nessun altro perciò ha lasciato una traccia di tale portata negli studi sull'architettura medievale quello del 1117 fu un terremoto che colpì in termini sicuramente drammatici il fito tessuto dell'architettura che definiamo romanica e che ha suscitato moltiplici suggestioni ed elaborazioni particolarmente negli storici dell'arte e dell'architettura questi con varia puntualità e analiticità hanno tentato in più occasioni di farne uso come riferimento cronologico nell'ambito dell'evoluzione degli elaborati complessi architettonici che andavano analizzati che andavano analizzati in alcuni casi si andavano i propri e si andavano i propri che sono probabilmente particolari decenni passati decenni ma stazione in un'altra categoria tanto quanto approssimativa del fenomeno e che le analisi sempre regolamenti saltando l'internet spostano negli ultimi anni il livello del dibattito è un piano di maggiore scientificità almeno nel caso di alcuni grandi e difficili risorse agli inizi degli anni 80 del secolo scorso devo definirlo così quando nel gruppo di lavoro di sismologia storica guidato da Emanuela si occupò del sisma del 1117 l'idea di verificare le informazioni e i caratteri storico-artistico in relazione agli edifici in viso dell'area padana si tradusse nella compilazione di un database questa schedatura raccolse sotto una serie di voci le principali informazioni circa le trasformazioni di edifici ecclesiastici o monastici i soli in muratura sostanzialmente presenti diffusamente nel territorio il risultato fu la catalogazione delle informazioni o meglio sarebbe dire più spesso delle opinioni degli studiosi riguardo a decine di strutture sparse su un'ampia area dell'Italia settentrionale si tratta di una letteratura che oggi in molti casi appare superata da lavori di migliore analizzità alla cui base comunque stava sostanzialmente il grande repertorio di Arthur Kingsley Porter che aveva analizzato con sistematicità il fenomeno dell'architettura cosiddetta lombarda la schedatura che è quella che vedete in questa immagine da noi condotta negli anni 80 ha riguardato 345 edifici 120 dei quali posti in 21 centri urbani e 225 in ambito esterurbano il risultato di questo lavoro oltre ad una lettura generalizzata delle cronologie ipotizzate per i vari complessi fornì una prima idea di quanto si era ritenuto essere potente l'impatto del SISNA 18 chiese in ambito urbano erano ritenute colpite in vario modo e altre 11 invece in contesto esterurbano la complessità di questo quadro che non manca sicuramente di lacune era il frutto di analisi molto diverse per qualità e fornì un panorama orientato sostanzialmente sulla base dell'esistenza di interventi di rifacimento in edifici ricordati dalle fonti come anteriori al 1117 o ritenuti tali dagli studiosi naturalmente come già sottolineato non si trattava di un panorama della medesima uniformità e scientificità la difficoltà di collocare cronologicamente interventi costruttivi inclusi quelli da danni sismici che spesso si realizzavano in tempi ravvicinate inseriva a volte in accesi dibattiti a più voci possiamo pensare soltanto al problema del dibattito sul romanico emiliano circa l'attribuzione di numerose strutture in particolare quelle maggiori tutto questo secondo logiche di tipo prettamente stilistico le motivazioni che sottostanno gli interventi di rifacimento tra l'altro non possono essere certo addebitate solo unicamente a cause naturali ma anche ai nuovi bisogni delle comunità come la crescita demografica ed economica e cambiamenti nella sensibilità religiosa e culturale l'adattamento dei fabbricati sulla base delle esigenze imposte dallo sviluppo demografico nei centri urbani maggiori ma anche frequentemente in quelli minori o da necessità liturgiche rappresenta una prassi costante nella storia di questi complessi ma non altro nel modenese per fare un esempio tutte e tre le chiese osservate nell'ambito del progetto dell'università Ca' Foscere di Venezia in alzato o in scavo presentano rifacimenti nel corso del XII secolo indipendentemente dalle loro dimensioni quella di San Lorenzo che agli inizi del XII secolo aveva dimensioni molto contenute nel rifacimento della seconda metà del secolo venne innanzitutto ampliata e trasformata con l'inserimento di più absidi e di pilastri si tratta di un caso tutt'altro che eccezionale per di più l'eco del sisma si riverbera in un letteratura nelle cronologie degli edifici sull'area estesissima della pionera padana in ogni caso un'analisi statistica del fenomeno anche se grossolana condotta sulla base di una maglia di alcuni chilometri di lato ha fornito come risultato un evidente cluster di rifacimenti o ricostruzioni in un periodo successivo al 1117 in un'area che comprende sostanzialmente il Veneto e il Veronese in particolare l'Emilia e la zona di Cremona questo in pratica è l'area in cui si addensano queste segnalazioni si tratta in pratica della stessa area dove le fonti archivistiche concentrano le loro informazioni a completare il quadro in senso confermativo e anche la presenza di numerose lapidi che segnalavano pur senza indicarne quasi mai la causa interventi del restauro nel periodo successivo al 1117 a parte le quattro epigrafi già citate da Emanuela con riferimento certo al terremoto queste testimonianze epigrafiche rimandano alla memoria una varietà di situazioni per esempio semplicemente l'opera di maestranze attive negli anni successivi al terremoto per interventi di ricostruzione e restauro oppure ribadiscono la memoria del sisma come quella di San Mauro di Costoza dove i terremoto ricordati sono ben tre e cioè il 1117 il 1223 e il 1348 nel caso di San Faustino presso Reggio Emilia si conserva un'iscrizione relativa alla chiesa dei Santi Faustino e Giovita che è stata interpretata da Montorsi su base metrica come un ricordo del rifacimento post-sisma mentre San Salvador di Lignago la data 1117 potrebbe essere un semplice errore ma forse anche una sovrapposizione tra avvenimenti rilevanti come il sisma e la dedicazione della chiesa a Padova la cattedrale fu pesantemente danneggiata e fu ricostruita da Macillo arte magistrali come ricorda una famosa iscrizione ora perduta ma ampiamente ricordata dalla storiografia ottocentesca una lodevole eccezione è costituita quindi dalla chiesa di San Silvestro di Nonantola dove la menzione esplicita del danno appare ancora oggi chiaramente riportata nella lunga iscrizione del portale sotto la lunetta il quadro fornito al territorio padano comprende insomma una casistica decisamente significativa per un'interpretazione dei danni e delle trasformazioni di un certo numero di edifici ci riferiamo innanzitutto al gruppo di chiese veronesi costituito da edifici urbani e extraurbani che hanno rappresentato un riferimento apparentemente solido e convincente in questo senso questa è la pianta di Verona con la segnalazione di quelli che sono edifici ritenuti colpiti in questa occasione del 1117 queste invece sono alcune chiese quella di Somma Campania quella di Sola della Scala hanno fatto pensare anche in questo caso alla possibilità di danni di questo genere la critica architettonica ha concentrato su questo nucleo in particolare quello urbano una notevole quantità di riflessioni in accordo con le fonti medievali recentemente però la critica puntuale di Fabio Corden che è un lavoro del 2011 ha messo in luce innumerevoli punti di attrito in questa interpretazione distribuendo su altre voci come errori di cronologia adattamenti liturgici e anche questioni di stile coloristico quelli che erano stati precedentemente interpretati come rifacimenti dovuti a danni salvando solo un numero limitato di casi quindi Somma Campania Belfiore e persino gran parte degli edifici veronesi di ambito urbano dapprima ritenuti portatori di una stratigrafia muraria che evidenziava le tracce di sisma del 1117 secondo quest'analisi dovrebbero uscire dalla casistica dei danni accertati per collocarsi invece nell'ambito delle attribuzioni non comprovate l'edificio della Basilica di San Zeno di Verona per esempio alla luce delle analisi muraria del Corden pare danneggiato sì ma non in maniera significativa la portata di simili puntualizzazioni per il veronese come altrove ha indubbiamente il pregio di evidenziare la necessità di una maggiore analiticità di lettura dei manufatti che è ancora limitata a un numero modesto di casi nell'ambito emiliano la cattedrale di Parma altro esempio ampiamente dibattuto ha conosciuto recentemente un'indagine generistica la cui presentazione seguirà però il mio intervento che ha identificato precisi elementi nella struttura come risultato di un rifacimento parziale a causa del danno Cremona resta un punto problematiche con le notizie di un danno alla cattedrale riferite dalle cronache le informazioni che riferiscono del crollo parziale dell'edificio del recupero delle spoglie martiriali di Santimerio solo dopo alcuni anni sono databili alcuni decenni dopo il sisma ma nell'ambito delle fonti medievali possono essere considerate coeve per il ruolo preponderante della tradizione testuale l'edificio iniziato nel 1107 peraltro poteva essere ancora in fase di costruzione al momento del sisma il quadro delle informazioni presenza in sostanza numerosi aspetti che rifiutano una lettura semplicistica della situazione d'altronde l'idea di individuare facilmente nei grandi o piccoli edifici tracce superstite del terremoto dopo nove secoli appare impraticabile se ci si basa unicamente su criteri di analisi di tipo stilistico l'enfasi posta in alcuni casi sui danni del sisma da parte di una tradizione di studi priva di riscontri puntuali ha forse finito per sminuire in prospettiva la lettura attuale della reale portata del danneggiamento proprio amplificandola erroneamente su basi non solide il numero di studi che si avvalgono di metodi di analisi stratigrafica applicate alle murature i soli che potrebbero permettere una prima d'esamina con procedimenti scientifici verificabili dagli aspetti delle trasformazioni degli edifici è assai limitato e ciò resta in effetti il punto determinante ma ancora lo conosco della questione a questo proposito vorrei porre in evidenza i risultati del lavoro fatto sull'abbazia di San Silvestro di Nonantola nell'ambito del progetto Nonantola dell'Università Ca' Foscari che ha comportato la lettura degli alzati di tutto l'edificio questo è un progetto ormai pluriennale che ha comportato lo scavo e il rilievo degli alzati di un numero di strutture sotto la direzione del professor Sauro Gelich il fabbricato attuale è il risultato di una pesante ricostruzione databile agli inizi alla fine del XIX secolo inizi del XX secolo al fine di restituire l'aspetto romanico all'edificio che era stato pesantemente trasformato in età barocca intervento che aveva comportato il rifacimento della parte superiore della navata centrale tra l'altro il fabbricato originariamente è stato variamente addibitato dagli studiosi a periodi diversi sulla base di ipotesi che prevedevano una completa demolizione nel 1117 o una sua sostanziale sopravvivenza Arturo Calzona Giacome Porte ne aveva suggerito in effetti una lettura più articolata che partendo del presupposto del danneggiamento prevedeva una fase di rifacimento estesa tutta la parte presbiteriale e non solo la parte alta come invece sembrava suggerire la lapide presente sulla facciata che cita appunto il pulmina templi tra i risultati delle indagini ci riferiamo però solo al periodo che interessa possiamo rilevare una sequenza così disposta l'eserificio originario è frutto di una fase di lizia della seconda metà probabilmente dell'undicesimo secolo verosimilmente ad opera di maestranze bolognesi come dimostra l'uso estensivo di selenite a livello di fondazione la prima fabbrica aveva le medesime dimensioni di quella attuale mentre in talto medievale l'edificio religioso doveva avere misure molto più contenute mi devo avvicinare il sisma del 1117 va bene il sisma del 1117 dovete colpire questa struttura in maniera tutt'altro che marginale anche se come serisce la lapide venne restaurata rapidamente dopo il sisma già nel 1121 le tracce di questo intervento sono evidenziate da murature che l'indagine è individuato tanto nella facciata quanto nella parte absidale questo è il fotopiano della facciata in cui sono state localizzate quelle che sono le principali unità stratigrafiche murari e gli interventi e gli elementi architettonici questa è la nostra interpretazione con il colore più chiaro potete vedere quello che è rifacimento ottocentesco novecentesco con il colore marrone vedete la parte originale che è quella della seconda metà dell'undicesimo secolo e con il colore blu invece è un intervento si nota anche per la sua irregolarità di rifacimento nella parte alta già della facciata voglio dire si suppone che abbiano rifatto una parte piuttosto estesa dell'edificio a questo punto ed è attribuibile praticamente agli anni immediatamente successivi al sisma una situazione analogo la riscontriamo nella zona psidale dove anche in questo caso abbiamo il fotopiano dove in blu sono indicati quelli che riteniamo essere i rifacimenti databili al periodo immediatamente successivo al sisma ecco per una combinazione direi fortunata siamo in grado di stabilire praticamente con assoluta certezza il fatto che tutti quanti gli interventi che osservate sia quelli segnati in blu che quelli segnati con un colore marroncino più scuro arancio nella parte superiore si collocano tutti all'interno della prima metà del XII secolo per una ragione molto semplice e cioè che questa struttura è databile con puntualità per la presenza di una serie di bacini architettonici che sono di manifattura bizantina sono materiali che circolano in Italia importati entro la prima metà del XII secolo di conseguenza siamo in grado di localizzare questi interventi che vedete si collocano in pratica al di sopra di quella che è la parte più scura e questi sono i bacini architettonici questo dovrebbe essere quanto resta dell'edificio di XI secolo questo blu scusate questo blu è il rifacimento che segue il terremoto e quest'altra parte invece con i bacini architettonici è attorno alla metà del XII secolo quindi siamo in presenza di due fasi sostanzialmente di rifacimento una prima come dicono anche come dice anche l'iscrizione sulla facciata è una seconda invece in qualche modo più ampia più estesa che non riguarda solo la zona la zona colpita diremmo ma che riguarda un po' tutto l'edificio è una sorta di rivisitazione dell'edificio la modifica strutturale più vistosa infatti rappresentata la demolizione di quelli che sono i due pilastri per lato che si collocavano in corrispondenza della cripta e la sua sostituzione con uno solo in pratica in modo da rendere tutta quella che è la zona presbiteriale più luminosa più spaziosa e quindi con un intervento che riguarda anche tutta quanta la parte orientale della della navata quindi interventi del sisma sostanzialmente si assommano poi sugli interventi del sisma si assommano anche i rifacimenti che sono dovuti invece ad un adeguamento della struttura per altri fini qui vedete la parte relativa alla cripta dove si notano le murature della cripta del XI secolo che vengono inglobate dalle murature del XII per permettere poi alla parte superiore di resistere al peso del rifacimento ora il caso non antolano a parte quelli che sono i dettagli di questa di questa lettura sembra dirci che l'evento ebbe una portata veramente significativa che definire limitata alla sola parte alta del fabbricato appare riduttivo così pure possiamo aspettarci che questo sia successo in un areale sufficientemente ampio vista la quantità di memorie che in varie forme ne tramandano il danno quanto visto sinora pone prioritariamente il problema della leggibilità di quanto resta dei sindi storici nelle architetture dopo secoli di continui interventi che ne hanno compromesso in gran parte la lettura e cioè dei criteri con i quali identificare le tracce di questi eventi recentemente nel 2015 ha visto la luce il manuale di Andrea Righetti l'archeosesmologia in architettura che sebbene concentrato geograficamente sulla Toscana inquadra metodologicamente l'intero problema anche dal punto di vista della cultura materiale che è il tema che costituisce la vera base dell'analisi per una lettura delle sequenze architettoniche dei manufatti tuttavia l'approccio stratigrafico resta un'ipotesi poco praticata anche per le notevoli difficoltà di applicazione soprattutto problemi di costo che pone nel caso di edifici di grandi dimensioni ma l'obiettivo delle immagini in questo caso non è tanto la storia del manufatto in sé ma la sua capacità di informarsi su un fenomeno la cui pericolosità può essere ancora attuale e si noti che la stratigrafia di per sé può evidenziare lo sottolinea anche a Righetti elementi di debolezza della struttura quando questa è sottoposta a sollecitazioni sismiche alla pari di sue carenze strutturali che eventualmente dovrebbero esistere il recente terremoto nel modenese del 2012 per esempio ha danneggiato ma anche demolito edifici con discontinuità stratigrafiche significative anche se poco evidenti assai più di quelli omogenei solo un esempio questa è la rocca di San Felice sul Panaro questa è la torre principale è evidente che queste due fasi quello che è la base trecentesca e quello che è un rifacimento quattrocentesco la parte superiore quattrocentesca è letteralmente slittata su quella trecentesca trascinandosi dietro addirittura anche la finestrella concludendo io ritengo che varrebbe la pena di riflettere sul tema della stratigrafia muraria non solo come un aspetto passivo cioè come il risultato di un danno o di un rifacimento ma anche come strumento attivo nell'ottica della previsione del danno da eventi sismici ossia per la capacità che offre di individuare discontinuità murarie e quindi vulnerabilità selate nei corpi degli edifici storici su cui si potrebbe eventualmente intervenire e con questo ho concluso grazie grazie siamo in tempo per procedere nei nostri lavori per presentare subito anche la lezione la relazione della signora Quasson e dopodiché faremo una pausa di qualche minuto tanto che si cambiano i cavalieri è una pausa di qualche minuto per offrire un caffè ai relatori che prendano fiato dopodiché riprenderemo per la seconda sessione allora passiamo a Parma grazie mille innanzitutto desidero ringraziare Emanuele Guidoboni per avermi invitato a parlare in questo in questo consesso in questa sede meravigliosa e soprattutto con esperti di altre competenze con i quali credo sia molto bello lavorare insieme per per conoscere meglio i nostri edifici storici oggi parlerò in particolare del caso della cattedrale di Parma esponendo degli studi che insieme al professor Carlo Blasi che non è potuto presenziare si scusa della sua assenza abbiamo condotto ormai alcuni anni fa ma prima di entrare nel dettaglio di quello che è successo nel 1117 a Parma devo fare una premessa una premessa che riguarda la conoscenza dei meccanismi di danno ricorrenti per gli edifici in muratura conoscenza e studio che sta diventando sempre più riconosciuto e attuale anche nell'ambito di chi si occupa degli studi di vulnerabilità sismica e anche finalizzati alla prevenzione quindi parallelamente alle modellazioni come dire numeriche virtuali tipiche degli ingegneri si sta un po' rivalutando un approccio empirico che era poi quello dei nostri predecessori sulla base del quale anche gli antichi architetti progettavano e imparavano quali erano le soluzioni più e meno stabili e che vede gli edifici in muratura danneggiarsi con dei meccanismi di dissesto che sono strettamente legati alla tipologia costruttiva in particolare questi studi per quanto riguarda le chiese hanno avuto tra le primi applicazioni quella alle chiese del Friuli credo che ci sia già in sala Francesco Doglioni che è uno degli autori con questo testo sulle chiese e il terremoto e che ha dato poi origine a tutta una serie di studi che appunto negli ultimi decenni si è andato via via fermando fino a entrare nelle normative con questo abaco dei meccanismi di collasso delle chiese che quindi in questa normativa per la prevenzione del rischio sismico sono indicati tutti quelli che sono appunto i meccanismi ricorrenti per tipologie relativamente alle chiese e questo è appunto qualcosa che è ormai riconosciuto ed utilizzato ampiamente da chi si occupa di conoscenza e prevenzione del danno sismico è molto meno applicato invece da chi va a studiare i danni sismici nel passato e questa è una premessa che ho fatto perché è invece stato un po' il nostro approccio per quanto riguarda la cattedrale di Parma in effetti sulla cattedrale di Parma e sugli effetti in particolare del terremoto del 1117 sono state scritte come diceva chi mi ha preceduto cose anche molto differenziate i documenti le fonti documentarie erano piuttosto scarse e imprecise abbiamo il cronico in Parmense che parlava genericamente della chiesa che era di rupta e sulla base di questo molti hanno ritenuto di leggere una completa o quasi completa ricostruzione dopo questa data ma occupandomi tra l'altro di restauro sono abituata a cercare direttamente sull'edificio le informazioni che eventualmente non fossero nei documenti cartacei perché il monumento in fondo è il nostro principale documento e quindi abbiamo cominciato a studiare da vicino la costruzione la prima osservazione anche se esula un po' dalle mie competenze molto onestamente è di tipo stilistico in quanto le somiglianze con l'abside di spira che vedete a sinistra sono talmente evidenti da far diciamo dubitare che l'abside del Duomo di Parma possa essere stato costruito dopo il 1106 che è l'anno nel quale Parma esce dall'influenza imperiale per tornare sotto l'influenza del papato e quindi è stata chiaramente costruita prima questa parte e non è stata danneggiata significativamente almeno dal terremoto in quest'area si possono riconoscere una tipologia di murature che è abbastanza caratteristica con questi mattoni dalle dimensioni variabili ma mediamente più piccoli di quelli che si ritrovano in altre parti del Duomo e soprattutto dai colori molto variabili indice di tecnologie di cottura ancora abbastanza non dico primitive ma insomma non del tutto dettagliate in certe zone si notano ancora anche delle stilature particolari quindi andando a ritracciare con metodi anche se un po' possiamo dire semplificati di archeologia dell'elevato questa tipologia di muratura che abbiamo identificato a partire dall'abside come appartenente alla parte costruita prima del 1117 siamo andati anche nelle zone in particolare del sottotetto delle navate laterali identificando delle zone in cui la ricostruzione è evidente in altre zone è anche un po' meno evidente rispetto a questa ma già qui si vedono le due diverse dimensioni dei mattoni sopra e sotto la linea di crollo e all'esterno queste linee si possono individuare abbastanza chiaramente in particolare è quella rossa quella che ci interessa in quanto vedete nella parte sotto questi mattoni un po' policromi e nella parte superiore invece sono cose che sono successe successivamente quindi non riguardano 1117 inoltre se guardiamo nella parte caratterizzata da questa muratura che consideriamo della prima fase vediamo anche delle piccole differenze ad esempio di dettaglio nelle tecnologie costruttive questa doppia ghiera attorno alle finestre del cleristorio dove i mattoni sono del primo tipo mentre la ghiera è singola nell'altro caso e anche dove vedete tra l'altro mattoni di colore molto più omogeneo e anche le esene che sono caratterizzate da diversi materiali anche se poi sono state soggette ovviamente a ricostruzioni in diversi punti sulla base di tutte queste osservazioni siamo andati a ricostruire questa linea sostanzialmente che distingue la parte rossa che farebbe per riferimento alla prima fase ante 1117 dalla parte gialla che è quella ricostruita lasciamo sempre perdere le parti azzurre e verdi che riguardano altre fasi e questa forma nella quale possiamo riconoscere anche questa linea orizzontale che è leggermente al di sotto dell'attuale posizione del tetto ma il tetto è stato rialzato appunto di circa un metro quindi corrispondeva al livello originario della copertura delle navate laterali a questa forma su un fronte e questa invece l'altro era il fronte sud questo è il fronte nord quindi abbastanza simili sui due lati che anche altri studiosi come Luchterhand hanno individuato ma hanno interpretato come una fase costruttiva un'interruzione nella fase di costruzione per chi invece come me e come anche il professor Blasi e altri si occupa di analisi del comportamento sismico delle strutture andando a riprendere i meccanismi che abbiamo visto precedentemente che sono indicati nell'abaco non si può non riconoscere una forma molto simile a questo meccanismo delle pareti laterali che può essere stato anche enfatizzato da una risposta trasversale dell'aula analogo discorso vale per quanto riguarda la facciata nella quale la linea di distinzione tra i due periodi costruttivi anche se per la parte ovviamente sotto al rivestimento in pietra si tratta di una ipotesi quindi diciamo le certezze ce le abbiamo in questo lato e in questo lato qui che cosa succede se in mezzo non è chiaro anche in questo caso c'è chi ci vede delle interruzioni in fase di costruzione ma ancora una volta chi ha un occhio e un'abitudine a riconoscere ahimè anche perché li vediamo anche con i terremoti più recenti questo tipo di meccanismi è un meccanismo estremamente ricorrente quello della sommità della facciata e quindi ci appare estremamente più probabile che la causa sia da ricercarsi nei danni del terremoto io penso che delle certezze assolute non potremo mai averle o almeno io non penso mai di averle in mano ma ci sembra molto più probabile questa interpretazione e sulla base quindi di questa mappatura e di queste considerazioni siamo andati a ricostruire vedendo anche tra l'altro le linee poi di ricostruzione e di rialzamento diciamo che scusate il termine che sono state condotte sui sui contraforti questo quadro di danno che vedrebbe intatta la prima volta vicino al transetto anche perché il transetto stesso fornisce un supporto rispetto allo spostamento del terremoto sulla base di questa interpretazione del danno sembrerebbe ma anche qua andiamo sempre più sull'ipotetico che la sollecitazione principale non sia stata del tutto parallela a uno dei due assi altrimenti avremmo avuto danni più per taglio in una delle due parti e per ribaltamento fuori dal piano solo in uno dei due lati e che quindi sia stato più di tipo inclinato forse nord ovest sud est ma qui insomma ci spingiamo verso cose che tra l'altro conosco solo parzialmente un certo conforto rispetto a queste nostre ipotesi li abbiamo andando a riguardare anche danni sismici come dicevamo di terremoti più recenti sempre su chiese qui vediamo Vezzano 1915 con il ribaltamento della facciata e i danni sempre con questa forma un po' a U sulle facciate laterali analogamente anche questo disegno è tratto sempre dal libro di Doglioni Petrini e Moretti con il Friuli 1976 sommità della facciata e porzione delle navate laterali anche in questo caso molto simile a quello che è riscontrato nel Duomo di Parma Sant'Angelo dei Lombardi quindi Irpini a 1980 Cleristorio nonostante la presenza del contrafforte Duomo di Mirandola 2012 sommità della facciata e porzione sommitale del Cleristorio e solo per quanto riguarda la facciata Amatrice 2016 quindi l'identificazione del danno ci sembra abbastanza chiara un altro tema importante è capire che cosa ci fosse prima le volte sono state ricostruite tutte a pianta rettangolare quindi le cosiddette barlonghe perché hanno una larghezza doppia rispetto alla lunghezza e come vi dicevo la nostra ipotesi è che la prima volta fosse sopravvissuta al terremoto sarebbe interessante riuscire a fare magari anche delle indagini sui materiali per cercare di confortare questa ipotesi ancora non abbiamo avuto la possibilità che cosa c'era prima molti testi parlano e tra l'altro guardando ieri su internet ho visto che ancora il sito internet della cattedrale riporta questa ipotesi che prima delle attuali volte prima del 1117 ci fossero delle capriate una copertura capriata semplice questa ipotesi a noi sembra improbabile prima di tutto da un punto di vista statico ci sembra abbastanza strano per usare un eufemismo che un costruttore che vede una cattedrale danneggiata pesantemente da un terremoto pensi di sostituire o meglio non di sostituire perché la capriata ovviamente le deve rimettere di aggiungere alle capriate un elemento così vulnerabile come delle nuove volte e quindi di aggiungere un elemento pesante e spingente su un edificio che ha subito dei danni pesanti quando ancora le volte in queste ipotesi non c'erano ci sembra veramente una cosa che un costruttore ingegneri architetto insieme all'epoca non avrebbe probabilmente mai preso in considerazione ma ci sono altri elementi che ci fanno pensare per un'ipotesi alternativa innanzitutto dei documenti storici questo l'ho trovato grazie alla documentazione fornita in allegato al catalogo dei terremoti che prima è stato mostrato che ha un CD nel quale navigo sempre molto molto volentieri alla ricerca di informazioni è un testo molto successivo al terremoto perché è del diciottesimo secolo ma che riporta delle indicazioni così precise sul tipo di danno che ci fa pensare che avesse a disposizione probabilmente dei documenti e delle informazioni che noi oggi non abbiamo perché parla appunto descrive il danno in questo modo cascò il tetto che secotirò il soffitto del duomo ed in vari luoghi le mura aperte non tanto per lo scuotimento del tremuoto quanto per la caduta del tetto e soffitto quindi citando sempre separatamente il tetto dal soffitto si capisce che sotto qualcosa dovesse esserci poteva anche essere sicuramente una copertura diciamo una specie di controsoffitto attaccato alle capriate ma ci sembra più probabile anche per i motivi che dicevamo precedentemente che fosse invece un soffitto di tipo voltato e parla proprio delle mura che sono rotte solo in corrispondenza della parte alta vicino al tetto quindi coerente anche con l'individuazione del danno che abbiamo fornito inoltre 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 siamo convinti che ci fossero delle volte che tipo di volte beh se andiamo a vedere i pilastri che ci sono nel Duomo di Parma vediamo l'alternanza pilastro forte e pilastro debole e questa alternanza fa sempre pensare considerata anche la grossa differenza nella nella composizione dei salienti che arrivano fino alla sommità della parete a delle funzioni strutturali differenziate perché sono effettivamente molto molto diverse e molto più snello il pilastro debole con questa piccola semicolonna se poi andiamo a guardare più nel dettaglio qua ci sono le piante dei pilastri deboli e forti quindi anche la sezione è molto più ridotta quindi pensata probabilmente per portare carichi minori e poi vediamo questo adattamento chiaramente osticcio che è stato necessario per andare a ospitare queste tutte le componenti gli archidiagonali e trasversali delle volte barlonghe successive quindi andando basandoci su queste ipotesi su queste osservazioni scusate abbiamo e su osservazioni anche metrologiche siamo giunti alla nostra ipotesi che appunto vede delle volte su base quadrata che occupavano le prime attuali sei campate quindi le prime tre grandi campate questa è un'ipotesi che era già stata fatta da altri ma la cosa che non tornava molto è che il problema è che abbiamo sette campate attualmente e quindi quella che non torna è questa campata anomala rettangolare che doveva essere rettangolare già in origine una possibile spiegazione noi la troveremmo nel fatto che questa zona era una zona prima delle modifiche del XVI secolo occupata dal presbiterio dal recinto presbiteriale quindi era una zona ancora relativa alla parte sacra possiamo così dire che quindi poteva avere anche una giustificazione per un tipo di copertura differente da questo punto di vista è chiaro che le volte su base quadrata sono più vulnerabili al sisma presentano delle spinte maggiori e soprattutto più concentrate in sommità dei pilastri forti presentano delle vele molto più ampie quindi più fragili nei confronti del sisma rispetto alle volte rettangolari che sono state costruite successivamente e inoltre quelle rettangolari avevano anche hanno anche un colmo rampante hanno una curvatura maggiore quindi la spinta è anche un po' più inclinata un po' più verticalizzata arrivando a prendere meglio i contrafforti che poi sono stati anche innalzati rispetto a quelli originali quindi è vero che la volta ricostruire dopo un terremoto con delle volte era una cosa delicata ma probabilmente è stato fatto con un cambio di tipologia di volta passando da una tipologia più vulnerabile a una meno vulnerabile probabilmente sull'esempio di questa campata anomala rettangolare che secondo le analisi sarebbe rimasta in piedi vabbè non entro nel dettaglio sul perché questa diciamo che queste volte hanno siamo sicuri che prima le volte avevano un colmo più basso perché per farci stare le capriate dopo la ricostruzione delle volte hanno dovuto realizzare queste capriate strane che adesso non ci sono più perché nel 1775 le hanno cambiate ma ecco una capriata così fuori dalla regola dell'arte con la catena divisa in due pezzi e aggiustata in questa maniera non può che essere anche qui una sistemazione fatta in maniera un po' posticcia per adattarsi a una situazione che si è venuta creando e quindi questa è la ricostruzione che è riportata nel libro sull'esapartita non ci metterei la mano sul fuoco ci siamo lasciati forse un po' prendere dalla vicina cattedrale di Piacenza anche se le volte lì sono successive però diciamo delle volte su base quadrata sulle prime tre campate e l'ultima rettangolare situazione antiterremoto e poi le volte barlonghe ricostruite dopo il terremoto faccio un ultimo inciso proprio un paio di slide sul confronto tra queste volte e le volte di Sant'Ambrogio a Milano perché sappiamo che a Sant'Ambrogio la terza campata aveva delle volte a pianta quadrata costruite prima di quelle del Duomo di Parma quindi potevano anche in qualche modo essere servite da modello quelle di Sant'Ambrogio per Parma ma la terza campata nel 1196 viene crolla o viene comunque demolita perché era molto danneggiata e viene ricostruita con due campate rettangolari che oggi non si vedono più perché nell'Ottocento i colleghi restauratori hanno pensato che era meglio ricostruire la quadrata e quindi le hanno demolite per fortuna ci sono delle documentazioni molto interessanti pubblicate recentemente nel libro di Tancredi Bella documentazioni da parte di De D'Arten che era passato da quelle parti nel periodo in cui facevano appunto questi lavori e abbiamo i disegni della sezione delle volte del 1200 disegni che sono di una somiglianza direi sorprendente con la attuale sezione delle volte della cattedrale di Parma e quindi si potrebbe ipotizzare che queste volte di Milano forse già danneggiate dal terremoto del 1117 ma ovviamente passano poi 80 anni prima che le ricostruiscano quindi non è così diretta la causa-effetto il rapporto causa-effetto sono state ricostruite con direi un abbastanza chiaro riferimento all'esempio di Parma un'altra similitudine riguarda le tecniche costruttive perché gli arconi diagonali sono staccati qui il distacco poi è venuto per il terremoto ma è evidente che un distacco di questo tipo a Parma non sarebbe stato possibile se fossero state costruite insieme l'arcone e la volta e il De D'Arten quando parla delle volte di Sant'Ambrogio dice anche lui che gli archi diagonali sono distinti dalla muratura della volta e che si sono distaccati in più punti quindi questa similitudine ci sembra un altro punto da approfondire e interessante anche per capire come si passavano le conoscenze all'epoca dal punto di vista anche delle costruzioni in conclusione ci sembra di aver mostrato con un sufficiente numero di prove diciamo il danno subito dal Duomo di Parma nel terremoto del 1117 danno causato anche dalla vulnerabilità sicuramente del sistema voltato preesistente e danno che sia appunto concentrato sostanzialmente su questo sistema e non sulle altre parti dell'edificio se non in parte per la facciata che comunque ovviamente subiva anche la spinta delle volte ma ancora più in definitiva mi piace sottolineare come la conoscenza della stabilità degli edifici dei meccanismi di dissesto caratteristici delle varie tipologie costruttive che sono diffusamente ormai utilizzate per la prevenzione del rischio sismico possano essere anche fornire un tassello utile alla ricostruzione della storia degli edifici insieme a tutti gli altri alle considerazioni ovviamente stilistiche materiche e gli altri tipi di indagini che possono essere svolti ma che attraverso l'individuazione di danni consolidamenti l'interpretazione mirata di certi documenti storici e la comprensione delle scelte operate dai colleghi del passato possono arrivare ad aprire nuovi punti di vista e nuovi contributi anche alla storia degli edifici e in questo caso specifico dei danni subiti in occasione dei terremoti vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie per questa ricostruzione convincente direi oltre che molto attenta continuiamo i nostri lavori in questi termini adesso faremo come detto una pausa di dieci minuti un quarto d'ora per consentire ai relatori di prendersi un caffè poi riprendiamo i lavori con la seconda sessione e dopo la seconda sessione ci sarà una rapida pausa pranzo per i relatori sempre e i lavori continueranno alla fine rispettando i tempi come finora bene o male siamo riusciti a fare ci potrà essere la fase del dibattito e delle conclusioni quindi per il momento facciamo questa piccola pausa grazie intanto